Sabato 2 ottobre 2021, un cordiale saluto a tutti voi, carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellonesi nel Mondo, dai nostri studi in via Cavorteria Belluno, Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura del settimanale L'Amico del Popolo. Lo diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulla prima pagina, ecco come si apre questa edizione dell'Amico del Popolo, spazio alle elezioni comunali in programma questo prossimo fine settimana alle urne 8 comuni bellonesi, domenica 3 e lunedì 4 ottobre al voto per eleggere sindaci e consigli comunali. All'anno al pago Lozzo, Selva, Sovramonte, Zoldo, Vigo, Voltago, coinvolti 19.253 elettori. Foto di copertina, obiettivo più collaborazione tra parrocchi e ancora Papa Luciani, ricordato nel segno della speranza e del perdono, tutto questo a Canale d'Agordo in occasione del 43esimo della sua morte. Sciame sismico martedì 28 settembre, epicentro sulle prealpi, scosse avvertite nel feltrino. Altri richiami dalla prima pagina dell'Amico del Popolo, una fondazione per Cortina 2026, lavoro futuro ACC, aspetti ancora più chiari, salute Belluno, capitale delle emozioni, vita del giornale, propagandisti in ripartenza. Passiamo quindi a pagina 2 con la rubrica in provincia e nel mondo, una fondazione anche per Cortina 2026, madrina la regione che vuole replicare l'esperienza dei mondiali di sci alpino 2021. Intanto entro il 31 ottobre, da governo e regioni, il piano definitivo degli interventi. 118, il volontariato fra pubblico e privato, importanti la spinta all'innovazione e il processo di triage, sollecitato il suo riconoscimento, fermo restando il ruolo guida del SUEM. Lavoro, pagina 3 per ACC, via libera al prestito ma senza certezze sull'importo del finanziamento. L'esito del Vertice al Mise che si è svolto martedì 28 settembre. Notizia di spalle, 66% dei belunesi beve acqua di rubinetto, tutto questo da un'indagine dal comitato utenti. In primo piano, carta d'intenti per la collaborazione tra parrocchie e il Vescovo Renato. Chiedo a tutti di non spazzare via questo sogno ma di cercare di capire dove ci sta portando. In primo piano, bonding, cioè appartenenza dal mondo, messaggio ai belunesi, belunesi e ponte nelle Alpi, conferenza mondiale. Torniamo in contatto a cura di Don Gigetto De Bortoli. Vita del giornale, propagandisti dell'Amico del Popolo in ripartenza dopo la pausa imposta dalla pandemia sono tornati ad incontrarsi in vista della prossima campagna abbonamenti. Ed ecco diversi scatti delle persone che da sempre raccolgono gli abbonamenti in tutta la provincia di Belluno. Speciale elezioni comunali, pagina 7, 8 comuni al voto, tutti i candidati sindaci, tutte le liste. 8 comuni belunesi si preparano a eleggere i sindaci e i consiglieri. Appuntamento alle urne domenica 3 e lunedì 4 ottobre. Per il comune di Alpago occorrono ben quattro liste, lozzo di Cadore e Valdizoldo con un solo candidato. Ed ecco i candidati, comune per comune all'anno di Piave, Dario Codemo contro Amalia Serenella Bogana. Alpago invece quattro candidati, Vanessa De Francesche, Massimo Bortoluzzi, Alberto Peterle e Attilio dal Paus. Lozzo di Cadore corre da solo con una sola lista, Alessio Zanella. A Selva di Cadore due liste, quella di Adriano Peretti e di Luca Lorenzini. A Sovramonte sempre due liste, Federico Dallatorre ed Elsa Colomberotto. Valdizoldo corre da solo con Camillo De Pellegrin. Vigo di Cadore, ben tre candidati, Silvia Calligaro, Mauro Giovanni Schiesaro e Giuseppe Barreca. A Voltaugo Gordino due candidati, Giuseppe Schiena e Francesca della Lucia. Pagina 8, chiesa locale, i migranti e i rifugiati sono entrati nel noi. Le sei comunità presenti a messa hanno dato l'immagine del mondo a colori. E ancora a pagina 9, Don Bernardi e la Pasqua diventa scrittura. La presentazione del volume a cura della parrocchia, siamo a Longarone. Vi risuona l'eco del Santo Sepolcro a cui presto servizio dal 1998 al 2010. Solidarietà, escursionismo adattato, i CAI c'è, permette alle persone diversamente abili di frequentare la montagna. Vita missionaria, contrastiamo la povertà educativa partendo dagli asili. Il nostro ufficio missionario continua a sostenere le opere degli amici in missione. E adesso, pagine dedicate ai paesi della provincia di Belluno. Incominciamo con il capoluogo, piste ciclabili sotto la lente e le posizioni di alcuni consiglieri su via Montegrappa. Sul tema è intervenuta anche la FIAB, Federazione Ambiente e Bicicletta. Ancora da Belluno, quando la musica fa crescere, a ottobre riprende la scuola di musica della Filarmonica De Marchi. Una soddisfazione è vedere crescere i nostri allievi negli anni. Sport in piazza, il 2 ottobre in centro città, un'edizione rivista. La manifestazione si concentrerà in una sola giornata. Sedico nasce il centro del riuso solidale. L'amministrazione ha varato il progetto, la sede all'interno dell'ecocentro. L'obiettivo è contrastare l'usa e getta e promuovere il riutilizzo dei beni utilizzati. Ponte nelle Alpi, corsi d'acqua più sicuri. Partono i lavori grazie a un contributo della Regione Veneto che ammonta a 70.000 euro. Pagina 15, sempre da Ponte nelle Alpi, la Casa del Sole punta a diventare una cittadella dei servizi e della socialità. Al via la riqualificazione, la provincia stanza 35.000 euro. Notizia di spalle, sedico 43.000 euro contro la povertà, questa la volontà dell'amministrazione comunale. E ancora Limana, migliori mieli, il concorso provinciale e Segat. Vogliamo premiare gli sforzi fatti dagli apicoltori del territorio. Questa è la dichiarazione dell'assessore comunale del Comune di Limana. Val Belluna, avanti con i lavori in Viale Cadore per migliorare la sicurezza con la realizzazione di marciapiedi. Il sindaco Mendramini, tutto procede bene senza intoppi, fine cantieri entro gennaio. Notizia di spalle, la tragica scomparsa. Giacomo Sartori trovato senza vita, una notizia che ha lasciato nello sgomento e nello sconforto un'intera comunità. Venerdì 24 settembre è stato trovato il corpo senza vita di Giacomo Sartori, il 29enne di Meli, in cui si erano perse le tracce a Milano la sera del 18 settembre. I carabinieri del Comando Provinciale Milanese, dopo lunghe ricerche, hanno rinvenuto Giacomo in una cascina di Casorate I, provincia di Pavia, non molto distante da dove nei giorni precedenti era stata ritrovata la macchina. Pagina 17, Feltre, salviamo la chiesetta di San Paolo, un appello che è stato sottoscritto da 117 residenti del quartiere omonimo necessari. La manutenzione del tetto e il consolidamento delle mura perimetrali. Ancora dal Feltrino, Santa Giustina ha ringraziati i ragazzi volontari in estate, soddisfazione per l'esito del progetto che verrà riproposto anche il prossimo anno. Querovassa, Sagra della Zucca a Caorera, l'appuntamento è per sabato e domenica 4 ottobre. Lamon, cambio di medico per circa 600 assistiti. A Santa Giustina, borse di studio intitolate alla memoria di Andrea Perotta, l'appuntamento si è tenuto nella giornata di ieri. A Santa Giustina, in collaborazione con il locale Circolo Acli. Pagina 19, Zorzoi, venerdì 1 ottobre, l'inaugurazione del ristorante all'Antica Torne, dopo la sistemazione a cura del Parco Nazionale Dolomiti Belunesi. E sempre da sovramonte, nuova palestra che fa discutere. In molti non apprezzano le caratteristiche del suo aspetto esterno. Pagina 20, sono tre i candidati a sindaco. Per eleggere il nuovo Consiglio Comunale si vota il 3 e il 4 ottobre. Tre domande e tre risposte per ciascuno per capire che cosa faranno se eletti. Questo è l'approfondimento quindi dell'amico del popolo. Passiamo alle pagine dedicate a Cortina, Centro Cadore e Comelico. Tornano le processioni religiose. Domenica 3, la statua della Madonna sarà portata a spalla dalle donne. Erano bloccate da un anno e mezzo per le disposizioni contro il virus. Santo Stefano con i dispersi l'omaggio ad Aurelio. Lana di Campolongo ha ricordato la rappresaglia nazista. Aurelio Pomare è morto a 104 anni e sepolto senza funerale a causa del Covid. Ancora da Cortina, la cooperativa racconta le radici di Cortina. De Zanna ospiteremo ancora esposizioni come quella sulla storia dell'alpinismo. Passiamo alle pagine dedicate alla Gordino. Il cardinale è cittadino onorario. Il comune ha conferito l'onorificenza a Beniamino Stella per il suo gesto di generosità e per l'impegno nella valorizzazione di Luciani. Gosaldo, notizia di spalle. La burisola è d'oro tra i formaggi veneti. Formaggio prodotto dalle capre. Complimenti a Liliana Denato, che è la titolare di questa azienda agricola. Taibon, cent'anni di Agner. La commemorazione è stato celebrato il centesimo anniversario della prima salita sul Narda. Ancora dalla Gordino, cantoneria Pezzi, il parco. Silvano Savio chiede un intervento per ridare dignità all'edificio. Il consigliere di Agordo ne chiede l'abbattimento con attenzione per i turisti. Ed ecco appunto la zona in cui vi è ormai appunto il rudere dell'antica cantoniera, che appunto è a Pezzi. Tante le notizie dalla Gordino. Siamo a pagina 25. Sistemare la 203 strada regionale. La provincia è priorità. Due massi, due giorni di difficoltà. Il consigliere Fabio Lucchetta. In ogni caso, la Valle del Miss non può che rappresentare solo una soluzione di emergenza. Passiamo all'angoronese Zoldo. Soverze nella pista ciclabile. Ora a un nuovo tratto, circa 600 metri in località Salette. Val di Zoldo, notizia di spalle. In primis lavoro, viabilità e sicurezza. A dirlo il sindaco usciente, unico candidato del comune di Val di Zoldo, Camillo De Pellegrin. Vaionta. La comunità ricorda la tragedia. Il calendario per il 58esimo anniversario è molto ricco e articolato. Passiamo a pagina 27 con Alpago. Chiesse le sue montagne resiste. L'edizione numero 20 dal 2 al 10 ottobre. Nel calendario anche la supervertica all'Olimpo. Gara podistica non competitiva. Dalla rubrica in famiglia. Il conserto articolo a firma di Don Gigetto De Bortoli. Sofferenza mentale dei bambini. Non detta e gravata dalla pandemia. Raddoppiati a autolesionismo. E fuga dalla realtà. E ancora da in famiglia. Non è solo questione di genere. Tre cortometraggi sulle discriminazioni. Con la commissione pari opportunità di Feltre. E il comune di Fonzaso. Passiamo alle pagine dedicate alla cultura. Incominciamo con pagina 31. Quando s'andava in guerra. Mandando alla visita un amico. Raccontata l'improvvisazione. Dei moti garibaldini organizzati da volontari. Tanto entusiasti quanto impreparati. Tutto questo da Enrico Monti. 1842-1921. A Ronzano di Villa Piccola. Partecipò appunto ai moti del 1866. Ma ancora dalla cultura. Francesca Mussoi. Da vita a una penna. Prefazione di Dinka. Per un testo che non nasconde. L'attenzione alla cronaca. Il romanzo dopo la bambina. Con le infradito. Pagina 33. Reco di Sago quando la strada era la piave. Gli zattieri. La costruzione delle chiese. E degli edifici monumentali. Ancora Santa Giustina. Canto sacro medievale. Iscrizioni aperte. Con l'associazione Vocemea. 16 incontri. La cadenza quindicinale. Fino a giugno. Terminiamo con lo sport. Volano le belunesi. In promozione parliamo di calcio. Limana, Cavarzano e Fioribarpa. Punteggio pieno. In Serie D. La Dolomiti belunesi. Superata per 4 a 2. Sul campo della Luparense. Corsa in montagna. Trail del Nevegal. Ottimo riscontro. Rugby. Strade diverse. In Serie C. Per Alpago. Belluno e Feltre. È davvero tutto per questa edizione del settimanale. L'amico del popolo. A voi tutti. Un buon proseguimento di giornata. Un buon fine settimana. In compagnia come sempre di Radio ABM. La web radio dell'associazione belunesi nel mondo. Vi ricordo stasera l'appuntamento con Ernestina. Dalla fine del mondo. Vi aspetta alle ore 21. in diretta streaming dalla nostra web radio. Anche attraverso la pagina Facebook di Radio ABM. Domani invece l'appuntamento sempre alle 9 con la rubrica I ricordi della valigia. Appuntamento via streaming alle ore 21, ora locale italiana. È davvero tutto. Buon fine settimana come sempre con Radio ABM. Voce delle Dolomiti. Buon fine settimana. Buon fine settimana. Buon fine settimana. Buon fine settimana.